... Sofia ha 15 anni e vive ad Alcamo, in provincia di Trapani, con il padre Antonino... Ce n'è più? No, quello lo facciamo l'altra volta. E la sorella minore, Piera. Aiuta! Figlia di genitori separati, Sofia sta crescendo solo con la figura paterna al suo fianco. Sua madre, infatti, è andata via di casa, trasferendosi in un'altra città quando lei aveva solo 12 anni. Ha preso i capelli biondi. Le sue sorelle maggiori, Sara e Giorgia, nate da un precedente matrimonio di suo padre, vivevano troppo lontano per poterla aiutare. E così, nonostante la giovane età, Sofia ha cominciato a occuparsi della casa, aiutata dall'esigente e al suo modo premuroso, papà Antonino. Devi imparare, Sofia, quando vai a vivere da sola, queste sono cose che devi fare tu. Da quattro anni, Sofia è fidanzata con Ivan, un ragazzo di 18 anni, da sempre suo vicino di casa. Che cosa c'è a me? Ma che tutto cosa? Dopo un gioco di sguardi nella piazzetta del quartiere, i due hanno iniziato a frequentarsi, dando il via a una bella storia d'amore. Ma nessuno si sarebbe aspettato che il loro rapporto andasse così avanti. Un giorno Ivan è stato convocato d'urgenza a casa di Sofia. Al suo arrivo, lei l'ha guardato negli occhi e gli ha detto Sono incinta. Ciao, sono Sofia, ho 15 anni, vivo ad Alcamo e tra poco diventerò mamma del piccolo Kevin. Con Ivan, ci siamo conosciuti quattro anni fa. No, ma non la metto a mare, eh! Sotto a casa mia c'è un parchetto, eravamo tutti seduti là e io l'avevo visto. Ho preso il numero dal telefono di mia sorella e me lo sono messo nel mio telefono. Gli ha scritto subito, ehi, ciao, ehi, ciao. E lei mi fa ciao, ma chi sei? Ho detto sono Sofia, quella che sta sempre qui sotto a casa nostra. Poi io, un giorno gli ho detto, ti vuoi mettere come me? E lei mi fa sì. Però si è toglie, come è? Ci siamo baciati, è andato bene. Poi ci sono messo una sinassina e ci siamo dati un bacino. Ma non viene. Mi piacciono gli occhi, i capelli e il carattere. E' aggressivo e mi piace. Che c'è scritto? E' quello più ossido. Lui di carattere è un po' costo, nel senso, cioè, per fargli capire una cosa ci vuole una persona balladora, ma a me piace come carattere. Cioè, c'è tutto accoperto. Ma, c'è. Ma se è bello il gretino, tu. Ripeto. Sofia non vede l'ora di conoscere Kevin, ma mancano ancora sei settimane al suo arrivo. Oggi, insieme a Ivan, potrà vederlo in ecografia e continuare a immaginare come sarà. Ad accompagnarli c'è anche papà Antonino, rimasto in sala d'attesa. Allora, arriva, porta sulla destra e arriviamo. Buonasera, buonasera. Come stiamo? Tutto bene? Sì, sì. Quindi oggi faremo la giornata e vediamo se tutto procede. Però no, come l'altra volta che mi fa male. Che schiaccio. Speriamo. Io qualcosa sospettavo, però non ero sicura al 100%. Avevo dolori alla pancia, però non erano i soliti dolori di ciclo. Quindi ho deciso di andare dal dottore a farmi fare le analisi. Le sono andata a fare la mattina e subito dopo mezzogiorno me le hanno date. E quindi poi ho scoperto che era positivo e l'ho detto subito a Ivan, a sua mamma. e io ero contentissima. Questa è la mia sorella testina? Ma mamma, per quanto è grossa. Ma sicura la mia testa? Quando la mia testa che era incinta io l'ho presa bene perché ci sono cresciuto con i bambini perché mi piacciono, specialmente che ho dei nipoti che sono splendidi. Dei calci, si muove. Ecco qua, è di quasi nuove. I piedi sono in alto, qua c'è il pisellino, e qua ci sono i piedini. Quando poi punti i piedi qui, la schiena esce da qua e la testa fa male qua sotto perché spinge la testa. Piedi, testa e sederino. Le nostre famiglie all'inizio non erano d'accordo. Mia mamma la prima volta l'ha presa, diceva di no. Di no perché sa come sono io, che ero un po' femminare. Si può dire. E quindi questo piccolo bozzo che c'ho qui. Il bozzo non è detto un bozzo, è il bambino che spinge in tutte le direzioni. Punghi, palci, piedi. Mio padre all'inizio si è arrabbiato, ha dato un pugno al muro. Lui non voleva che io tenevo il bambino, però io dicevo sempre che lo volevo tenere, lo volevo tenere, lo volevo tenere. Questa è la zona del cordone, è davanti a questo bianco, è davanti al cordone che è l'uomo, è l'uomo in mezzo al liquido amniotico che si muove. Nonostante tutto, vuol dire che quando voglio una cosa, cioè la devo ottenere per forza io, devo vingere per forza io. Ok, la grafia quindi è completata. Ok. Quindi allora tutto è nella norma. Oggi ne hai fatto male, giusto? No, no, oggi no. Ah, dì, perché la soltanto la ho messo qua. Ma pulisci. Sì, prendo un po' di carta. Sofia non ha mai avuto dubbi sul suo amore per Ivan e sul voler diventare mamma, ma ancora deve avere a che fare e con papà Antonino. La notizia della gravidanza per lui è stata una vera sorpresa e non perde occasione per esternare tutte le sue preoccupazioni. Contenta sei? Oh, ti sei zitta se non dentro l'ospedale. Ti siedo per favore. Non dico sei contenta di questa situazione? Ora la vita te la potrei ricordare in un altro mondo. Sei stata a mare un gioco io. Che ti ho detto? Picchia di cartetto. Ah, la curca ti fa. Ma? Ora uno con fio non può fare più niente. Io? Perché non cosa può scegliere? Non c'è mancato all'ospedale. Sì. Mancato da casa, quando è nico, fa freddo e basta. Sono bambini che fanno bambini, lo sai che cosa significa? Ti stai zitto. Lo sai che cosa significa bambini che fanno bambini? Ti non capisci la mia? La gravidanza per me era una gioia avere un nipote, tutte queste belle cose. Però quello che mi preoccupava era la mancanza di una mamma, perché ho una figlia a 15 anni e stendo incinta la mancanza di una mamma è importante. Però i miei figli più grandi mi hanno detto papà non ti preoccupare, noi l'aiutiamo per quello che possiamo e io mi sono sentito un pochetto più sollevato. Quando è nascito un bambino la prima cosa che dice mamma o papà, secondo te? Mamma. Tu sei sicuro? Può essere che sbaglia e dice papà, non mi trovo qua. Mamma, io mi trovo un bacio, soffi. Capito, mi vedrà tutto il genere dove scappa da lì, mi vedrà tutto il sale. Poi vedrà te. si consola. Mia mamma quattro anni fa se n'è andata a Roma perché aveva un lavoro, però non ci ho lasciato qui con mio papà. Poi a un certo punto mio papà non l'ha sentita più. A me mi arriva una notizia che lei sta con un altro uomo. Io all'inizio non ci ho voluto credere. Sofia si è messa a piangere e la madre gli risponde beh, guarda che ormai sono stata scoperta sì, è vero. Io non sento più niente per tuo padre, mi sto frequentando con altre persone. il cuore è timore perché giustamente dopo aver 18 anni non penso che sia così facile per la vita, no? Papà, passa quel cucchiaino o quel forchetto? No, viene a passare a me perché sono pure sciagata stai in me. Oh. Ti stai perdendo perché non becchierà ti stai perdendo. Per questo il tuo mattino deve fare la stessa madre, le piazza le stesse mariè. per mangiare la piatta mia perché la cattola è piatta mia. Tutte cose mie. Ci ha lasciato così senza dire niente. Anche che tu non vuoi avere più niente a che fare con mio padre perché ci sta giustamente dopo che si lasciano si prendono di odio tutte e due e ci sta. Però tu non puoi abbandonare anche i tuoi figli. Come fai ad abbandonare i tuoi figli? L'abbandono da parte della madre è stato doloroso ma Sofia può trovare sempre conforto nella compagnia di sua sorella minore Piera. Ti apro? Ogni giorno aspetta che torni da scuola per pranzare tutti insieme. bello. 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 Ma che mettisci alla lavata di soci? In altra volta. La canteggina. e così da cucina ha detto mettere in canteggina perché già è finita? Sì. Allora la stenda. La stenda di piegare i panni. Piange bisogno che fai così la stenda io punta. da quando è andata via mia mamma io mi occupo della casa faccio le pulizie faccio tutto però prima le facevo più velocemente quasi ogni giorno e io mi prendevo cura di Piera della casa vai a fare la spesa vieni a casa cucina che Piera deve uscire da scuola era un po' difficile però mi sono abituata subito però adesso che ho il pancione dovevo stare attenta perché chissà mi sbatto il bastone nella pancia chissà sbatto certo non faccio ogni giorno perché sono stanca e ho un mal di schiena ma tre volte a settimana la casa è sempre pulita Nonostante la stanchezza dovuta alla gravidanza Sofia trova sempre il tempo di dedicarsi anche a sua sorella Piera da quando la loro mamma se n'è andata è lei il principale punto di riferimento per la piccola di casa io non avevo un maestro il daniele poi facevo sempre la lunga facevi sempre la maestra mi era più grande mi truccavo mi facevo le unghie ci travestiti con le perrucche io e Piera ogni tanto litighiamo perché magari io voglio quella cosa più ordinata magari lei la mette disordinata più per piccolezze litighiamo però io la voglio tanto bene perché la mia sorellina mi piaceva il tempo che ci avevo prima e magari per andare a scuola poi c'è una mamma dorme lui quindi si può che dorme sempre si si faccio dormire ok cico dormi zitto che zia sarai? una zia molto affettuosa una zia per la riempia di baci una zia per la mia mamma perché la mamma non vuole che lo toccano una zia per gli fare le foto che fia la faccia? mi preoccupa anche bruci no ok abbiamo finito tutto viene 10 euro sì ci vedi te le vuoi? Sofia e Ivan vogliono dimostrare a tutti di essere maturi e pronti ad accogliere Kevin e già hanno iniziato a mettersi di impegno il primo passo è quello di prendere consapevolezza di cosa li aspetta accomodatevi per questo si sono iscritti a un corso preparto di coppia oggi è il giorno della loro prima lezione tenuta dall'ostetrica Enza quindi a chi va di iniziare per prima lo dobbiamo fare tutti per cui per cui a chi va? a chi va? a chi va? ok come ti chiami carissima? Sofia quanti anni c'hai? quindi forse stand up quanti anni c'hai Ivan? 2 ok scriviamolo preferisci 18 o preferisci 19? tu come ti senti? uomo da 19 anni o ancora un po' piccino e quindi uomo da 18? allora 18 anni sia va bene allora iniziamo subito io devo chiedere ad ogni partner di descrivere il proprio compagno come ce la descrivi Sofia? hai una ragazza più fragile dentro di sé più fragile rispetto a che? rispetto a te? sì ok quindi tu sei una persona più ehm abbastanza più forte eh scriviamo ogni giorno che passa ok e tu lo sai che questo amore viene rafforzato ancora di più? certo perché aspetto aspetti hai detto bene aspetti l'aspetti anche tu quindi aspetti Kevin giusto? va bene allora ora che voi vi siete accoppiettati devo scoppiarvi dovremmo fare delle squadre quindi faremo i maschi contro i papà sì cioè volevo dire i papà contro le mamme ok finite le presentazioni per Enza è il momento di dare il via ai suoi metodi di insegnamento alquanto originali vi do queste nuvolette sulle nuvolette c'è scritto la diversa tipologia di parto dovete associare la tipologia del parto all'immagine che vi è stata assegnata ok io del giorno del parto ho tanta paura ma tanto soprattutto dei dolori e di quando lui uscirà fuori tu sapendo perché essendo che è grande è formato già i piedi la testa mi farà male questi sono esempi di parti naturali in un ambiente ospedaliero o in un ambiente più domestico io il giorno del parto voglio essere a guardare la mia ragazza quando come partorisce la placenta ragazzi è questa non so come sarà però per me sarà bello vedere il mio figlio nasce quando la signora rompe le in realtà dovrebbe dire che la signora ha rotto il sacco amniotico il sacco amniotico bravo Ivan l'acqua si rompe si può rompere il contenitore che lo contiene giusto quindi là ho rotto il sacco chiaro imparare divertendosi sembra essere un metodo davvero efficace Ivan in particolare si è mostrato molto partecipe e desideroso di apprendere più informazioni possibili e dopo tutta questa concentrazione è arrivato il momento di un meritato ultimo esercizio cominciamo a respirare ora continuate a camminare percorrete lentamente il vostro corrido e mentre percorrete lentamente il vostro corrido trovate scritto parto naturale insieme al corso preparto è ufficialmente iniziata anche la ricerca di una casa andare a vivere insieme infatti è il prossimo passo nel percorso intrapreso da Sofia e Ivan per diventare adulti appartamento è composto da cucina soggiorno oggi sono venuti a parlare con un agente immobiliare che li aiuterà nella ricerca del nido giusto in cui crescere insieme Kevin prego ditemi ci vediamo cerchiamo arredata o vuota arredata ok allora cucina soggiorno unico ambiente due bagni è abbastanza comodo ora vi faccio vedere se si vede bene ed è già arredata sì sì tutta arredata ci sono due divanetti pura si può andare a ricciare con i padroni cioè si può andare a vedere la casa sì sì allora mi dovete dare i vostri dati dove? Sofia ok professione lavori? no ecco lavoro eh c'è chi lavora attualmente qualunque cosa viene fa ho fatto dei lavori un po' semplici sono andata in campagna poi accoglierò Olive farei presciendolo a qualcosa di muratore e sto mettendo anche da parte soldi per il mio figlio hai garanzia per una locazione un papà una mamma qualcuno che ti possa garantire l'affitto sì sì fare tutto da me penso che sarà bello penso che mio figlio un giorno sarà fiero e dice mi ha fatto tutto mio padre e nessuno si è messo in mezzo siamo al centro storico non c'è tanta affluenza di macchine prima aveva un po' la testa fra le nuvole va e poi invece si è sistemata ha cominciato a fare dei lavori muratore quello che gli veniva faceva e poi si è sistemata adesso ha la testa a posto è bella è bella la testa di letta io sono pronta ad avere una famiglia con Ivan ma non è antica no non è antica quello forse è antica sono quello però se non vi piace ho qualcosa potete anche vogliere penso che mi sposerò con lei quanto è alto? eh siamo al terzo piano però è un bel balcone è abbastanza comodo c'è la caldaia lì la caldaia perché con noi ci sarà anche il cane quindi devo comunicarlo al proprietario è un cane che abbaia no è tranquilla è abituato agli appartamenti si si abitua con lui dorme con lui quindi è come il mio figlio avere una madre accanto che dà consigli anche nelle cose frivole come lo shopping avrebbe reso per Sofia più semplice affrontare la gravidanza ma lei non si perde d'animo è decisa a diventare lei stessa una brava mamma che non commetterà gli stessi errori che la sua ha fatto con lei per questo insieme a Ivan continua a frequentare con costanza il corso preparto che cosa che state iniziando a fare a progettare a ideare per l'arrivo di questo bambino come ve lo immaginate come sarà portarlo a casa noi cercamo una casa ah state cercando un po' una casa bene anche l'altra volta mi direi stiamo di fronte stiamo di fronte però la cosa che è è stare più sull'intimità nostra giusto non conviene stare a casa mia stiamo così però non va bene anche perché così non ho più una famiglia certo non lo sono per te mi va se facciamo un po' un gioco adesso io vi do dei bigliettini e voi scrivete tutto quello che vi viene in mente non ci sono delle risposte giuste o sbagliate qualsiasi cosa dite poi le vediamo insieme e le leggiamo insieme mi aiuto anch'io oh no qui ci sono un paio di fogliettini che cos'è importante per un bambino sia da un punto di vista di che cosa fare o che cosa dargli o anche diciamo il rispetto all'amore all'affetto che cosa questa è una buona cosa ah ora ok a te cosa viene educazione educazione brava poi vi viene qualche altra cosa in mente responsabilità averne responsabilità e capire che adesso hai un bambino non sai più come prima libera solo che puoi fare quello che vuoi adesso c'è un bambino devi dare attenzione più a lui come a te prima c'è il vostro il mio figlio Kevin avrà amore gioia la felicità e se per esempio io e il papà dobbiamo litigare lui non deve sapere le nostre discussioni perché poi giustamente lui ne soffre è quello che ne soffre di più sapete che è una cosa difficile soprattutto quando siete così giovani però già abbiamo messo nero su bianco qualcosina se noi riuniamo tutte queste che cosa significa insieme per voi due famiglia famiglia è una parola grande è bella come è questa parola famiglia ti fa emozionare? no la famiglia è che ci sono dei bambini il padre la madre che gli vogliono bene tu non hai avuto in questo momento una famiglia di altruità no perché mia madre se n'è andata quindi mi sono ritratta vicino solo a mio padre e loro basta una famiglia in maniera diversa è quello che non ho avuto io una famiglia unita voglio che mio figlio ha una famiglia unita quello che non ho avuto io che cos'è che ti è mancato? una figura materna è un po' difficile fare la mamma senza che abbia avuto la mamma e com'è per te anche dire queste parole come ti può sentire? mentre ti guardo vedo un attimino una tristezza nei tuoi occhi ecce vabbè ogni tanto ricordare questi momenti non è valido ok è anche bello che tu ti emozioni no perché dai senso e significato alla parola la famiglia no e mentre tu ti emozioni anche che viene pure se nella pancina sa che la sua mamma c'è perché tu gli stai dicendo se io non ho avuto la mamma tu la mamma ce l'hai esatto tu la mamma ce l'hai e sto facendo tanto mi sto preparando per diventare mamma mi ha fatto ricordare certi momenti belli con mia mamma capito? che vuoi fare sempre mia madre perché alla fine io essendo in questo stato di gravidanza poteva avere una mamma vicina invece io non ce l'ho una mamma vicina come le altre quando tu senti le emozioni non le frenare mai non significa essere deboli o che non va bene significa che gli fai sentire al bimbo che ci sei è è la prima parolina che ha detto lui un amore un amore un amore un amore un amore Grazie a tutti